Pesaro, capitale della cultura, si arricchisce di un ritrovato palazzo storico e di uno straordinario scrigno d'arte. A due anni dal completamento della sua riqualificazione, Palazzo per i cari signoretti si apre infatti alle visite guidate fra le sue stanze affrescate di corso 11 settembre. Lunedì sera la visita inaugurale di un programma gratuito e su prenotazione che si protrarrà fino al 28 settembre. Dopo un lungo percorso per il recupero del palazzo che nel 2008 quando io l'ho preso era diroccato e reso inagibile, finalmente dopo il recupero si sono installate le mie collezioni sia di dipinti antichi che di ceramiche. Oggi inauguriamo queste sale espositive dedicate a Costanza Monti. C'è stata una conferenza dove si è fatto un approfondimento storico su questa donna, giovane donna che è venuta appesa, lo sposo di Giulio Perticari e ora siamo alla visita, la visita della galleria e poi della biblioteca d'arte specialistica in storia appunto dell'arte con più di 50.000 volumi catalogati e inseriti sul sistema bibliotecario nazionale e se viene. Visita inaugurale che è stata preceduta da una conferenza Palazzo Montagnantaldi coordinata dai professori Riccardo Paolo Guccioni, Anna Maria Ambrosini Massari, Salvatore Giannella, Gaetano Gramaglia e Maria Maddalena Paolini. Fra i punti focali della conversazione la figura di Costanza Monti, moglie di Giulio Perticari, figura simbolo dell'Ottocento di emancipazione femminile che è al centro delle stanze del primo piano del palazzo. Un palazzo che accoglie ora la straordinaria quadreria di Franco Signoretti con opere della pittura italiana che spaziano dal Quattrocento all'Ottocento. Incluse nella visita anche la biblioteca d'arte Signoretti con i preziosi 50.000 volumi che dominano il secondo piano. Un palazzo che ora dunque diventa un luogo museale aperto alla città come nei desideri del suo mecenate. Una giornata evidentemente molto importante e molto emozionante. C'è stata una grande presenza di pubblico pesarese ed è stato veramente emozionante perché tutti si sono complimentati per questa cosa realizzata e devo dire che sono anche io molto contento e orgoglioso di come la giornata si è dimostrata essere interessante.